Desideriamo tanto nella vita sapere certe cose, in questo caso sapere se andrà tutto bene, sapere e avere questa certezza nella vita, certezza che andrà tutto bene, come anche tutti i bambini sono stati detti di disegnare un orcobaleno, rainbow, e scrivere andrà tutto bene e mettevano nelle finestre dappertutto, qui a Venezia facevano anche una registrazione video in tutta la città, queste specie di bandiere in tutta la città, tutti vogliono dire che andrà tutto bene, ma in effetti nessuno ha certezza che andrà tutto bene, nessuno lo sa, solo Dio sa come andrà veramente, e noi cristiani abbiamo la sicurezza che Dio sta comunque operando in queste cose, ma fisicamente vogliamo sapere, andrà tutto bene oppure no? Forse alcuni di noi hanno avuto il virus e siamo stati male, ma non lo sappiamo. Forse avremo ancora il virus, forse ci succederà che dopo una seconda onda, che ne so, ci arriverà di nuovo questo virus molto misterioso, che nessuno sa esattamente cosa fa e come si trasmette, forse moriremo. Abbiamo amici in New York che sono morti a causa di questo virus. Tante delle chiese lì, persone contagiate, parlavo con il mio amico, pastore della chiesa dove sono membro anch'io negli Stati Uniti, e lui pensa che anche lui ha avuto il virus e lui ha contagiato tante persone e grazie a Dio nessuno è morto, ma è una realtà che anche fisicamente, pensando dei nostri cari, come sarà per loro, come andrà, sopravvivranno oppure no? Tante incertezze ci sono. Economicamente abbiamo questo anche in mente, come andrà. Parlevamo anche di come sarà volare nel futuro. Prima, dopo la Torre Gemelli che sono caduti in 2001, ha cominciato a volare con sicurezza, tanta sicurezza, tanta attesa, è diventato lungo il processo per volare. Ora come sarà? Sarà diverso oppure no? Lavoro come sarà? Emanuele diceva che ancora per un mese bisogna lavorare da casa, ma forse alcuni di noi non avremo più lavoro. lavoro. Tanti hanno perso lavoro. E negli Stati Uniti più di 30 milioni di persone senza lavoro adesso hanno perso lavoro. È una roba che spaventa un po'. Vivremmo come prima? Oppure no? Bisogna ognuno di noi downsize forse un po'. Una casa più piccola, invece di due macchine forse solo una adesso. Tante cose che non sappiamo, tante incertezze. Aziende rimarranno aperti oppure devono chiudersi? Tante domande. Queste incertezze che abbiamo in queste cose qui e anche, diciamo, the bad news che continua a arrivarci ora dopo ora, giorno dopo giorno, più lockdown, essere chiusi in casa, fuori la vita normale, e anche in più isolamento, tutte queste cose insieme pesano su di noi. La nostra mente è difficile, difficile essere in questa situazione. Il corpo soffre. Io personalmente non mi piace fare esercizio. Per questo motivo, quando vado in giro, vado con la bici, così mi muovo, faccio battere il cuore e sto bene. Non devo farmi qualche esercizio speciale. Ma ora non mi muovo ed è difficile. Non è difficile far battere il mio cuore, funzionare bene il mio corpo? Anche l'anima può soffrire molto, sentiamo il peso di queste cose, perché siamo fatti per socializzare, siamo fatti creati da Dio per avere la comunione fraterna, anche tra di noi, soprattutto noi cristiani. E tutte queste incertezze causano ansia, instabilità, emozionalmente, instabilità, emotional instability, stress. Anche questo, siamo tutti un po', se siamo onesti, forse un po' così, agitati, che abbiamo bisogno di fare delle cose, muovere, vivere, non va bene. Incertezze ce ne sono. E se fosse un modo per sapere, per noi, se andrà tutto bene, oppure no, vorremmo tanto sapere. Sarebbe un sollievo per questo stress, ansia, questo peso che sentiamo. E se andrà tutto bene, cominciando anche ad esempio lunedì, torniamo ad uscire e vivere come prima, gioiosi, felici, boom, successo. Ma invece se sapessimo, sapremmo che andrà tutto male, allora aspetteremo a casa ancora, ma gioiosamente, sapendo che se usciamo, se torniamo subito dalla vita e ci sarà una seconda onda, sarebbe peggio di prima, saremo contenti di rimanere ancora in casa. Ci vuole soltanto una conoscenza per, come si dice, eliminare queste incertezze che ci sono ancora. Bisogna sapere come andrà. E il punto qui è che tanti oggi presumono che andrà tutto bene post-pandemia. Presumano. Andrà tutto bene, non c'è problema. Tanti sono così. Senza però saperlo con certezza. Non hanno questa certezza. E tanti presumono, nello stesso modo, senza saperlo, che andrà tutto bene quando incontreranno Dio. Tanti presumono che, senza saperlo, che andrà tutto bene quando arrivano davanti al Dio Santo, il nostro Creatore. La maggioranza presume che Dio li farà entrare il suo paradiso. Hanno un'idea personale su com'è Dio e pensano che Dio è buono, Dio è amore, non sono, non ho ucciso nessuno, non sono come quell'altro, di sicuro, sì, sì, mi farà entrare Dio. Tanti pensano così. Hanno un Dio nella loro mente che hanno creato alla loro immaginazione. E non va bene. Tanti hanno false assurance, diciamo, una certezza falsa, che andrà tutto bene, però è bene non presumere che saremo salvati se non abbiamo certezza. Ma qui la cosa per oggi è che una persona è sensibile, e spero che tutti noi siamo sensibili oggi, intelligenti, una persona sensibile, intelligente domanda ma come posso sapere se sono davvero salvato? è possibile sapere oppure no? E se sono salvato è possibile perdere la mia salvezza oppure no? Avere questa certezza di essere salvato oppure no, per noi, come sapere e avere certezza se andrà bene post-pandemia, ci aiuta molto a vivere in modo adeguato oggi. Quindi la buona, la grande idea per oggi, la buona notizia è che che tanti dicono che è presentuoso avere una certezza di essere salvato. Ma Dio, e vedremo, ci mostra che Lui desidera che noi sappiamo se siamo salvati oppure no, se abbiamo vita eterna oppure no. Possiamo sapere se andrà tutto, e possiamo sapere se andrà tutto bene o no. Questo vedremo oggi. Quindi tre cose che vedremo, vogliamo dimostrare che Dio vuole che noi sappiamo se siamo salvati o no, e vogliamo poi, seconda cosa, dimostrare che Dio ci comanda di fare un esame. Dio ci comanda di esaminare noi stessi. E poi vedremo la terza cosa qui, la terna, triad, diciamo in inglese, per esaminarci. un esame di tre parti per esaminare la nostra vita e sapere come andrà e in che situazione siamo. Quindi, adesso iniziamo al primo punto. Dio vuole che noi sappiamo se siamo salvati o no. Leggiamo qui da Primo Giovanni. Invece di guardare giù e guardare la mia Bibbia, ho messo qui sullo schermo i versetti, così posso forse guardare un po' più verso anche di voi. E vi invito ad ascoltare questi versetti, concentrare la mente un po', a sentire questi versetti. Non darò tanti commenti perché qui ce l'ho un numero qui di versetti da condividere, ma il punto è quando ascoltate questi versetti voglio che sentiate che Dio parla in modo chiaro che è possibile sapere se siamo salvati oppure no. Lui desidera che noi sappiamo. E il primo versetto che vogliamo leggere viene da Primo Giovanni. Primo Giovanni. E la testimonianza è questa. Dio ci ha dato la vita eterna. E questa vita è nel figlio suo. Chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete che avete la vita eterna. Voi che credete nel nome del figlio di Dio. Sempre Giovanni dritto appunto in modo molto chiaro ci dice Dio ci ha dato la vita eterna. È nel suo figlio. vi ho scritto vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna. Vi ricordo qualcuno sta chiedendo qui Primo Giovanni cosa? Primo Giovanni 5 da 11 a 13. Grazie per il messaggio. Importante questo versetto. Scrivetelo, memorizzatelo, Dio parla in modo chiaro. Prego. Giovanni 3 adesso leggiamo un paio di versetti anche qui. Giovanni 3 da 14 a 18. Ascoltate questo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo ma perché il mondo si è salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Chiunque crede in lui abbia vita eterna. Una cosa solo qui voglio dire che il credo di cui parla la Bibbia non è un credo semplice. È semplice ma da una parte non è semplice perché la Bibbia afferma Giacomo ad esempio il pastore che era a Gerusalemme che voi credete bene ha detto ma anche i demoni credono in Dio ma non fa niente un semplice credere tanti credono ma quando la Bibbia qui parla di credere significa più fiducia una fiducia in Dio in Gesù Cristo e la sua vita perfetta chi è veramente il vero Dio della Bibbia è ciò che ha fatto vivendo in modo perfetto senza peccato per noi e poi morrendo sulla croce al posto di noi e non solo risuscitando e ora è vivo il Signore Gesù e chiama a sé persone di ravvedersi e fidarsi a Lui per la salvezza e quindi di nuovo Giovanni qui parla vita eterna è una realtà due o tre volte qui nomina questa cosa e di nuovo Giovanni capitolo 3 ora versetto 36 leggiamo questo chi crede nel figlio ha vita eterna chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita ma dire di Dio rimane su di Lui chi crede nel figlio ha vita eterna chi si era veduto e creduto fidato a Gesù Cristo per la salvezza ha vita eterna niente può cambiare questo Giovanni 5 24 in verità in verità vi dico chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio ma è passato dalla morte alla vita la Bibbia afferma che prima di combattirci a Cristo non eravamo soltanto sviati nemici di Dio schiavi del peccato ma spiritualmente eravamo morti Dio ci vivifica e per questo motivo dice è passato dalla morte alla vita abbiamo vita in Cristo chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna non c'è più giudizio Giovanni 6 e vi ricordo sto leggendo questi versetti perché voglio che sentiate la parola di Dio le sue promesse la certezza che Dio ci dà che lui vuole che noi sappiamo se siamo salvati oppure no Giovanni 6 47 in verità in verità vi dico chi crede in me ha vita eterna chi crede in me ha vita eterna e qui diventa interessante leggo adesso da Matteo 10 Matteo 10 21 e 22 Matteo 10 21 22 il fratello darà il fratello a morte Gesù parlando del futuro e il padre il figlio e i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire sarete odiati da tutti a causa del mio nome ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato ci indica che quelli che saranno salvati quelli che stanno bene con Dio sono quelli che perseverano fino alla fine qualcuno mi chiede potresti scrivere tutti i versetti aspetta dopo nella chat dopo posso mandare anche una copia di tutti questi versetti e anche abbiamo la registrazione grazie per la domanda grazie anche per il desiderio di avere i versetti chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato e qualcuno pensa forse come Pietro che era pieno di certezza signore dovunque vai io ci sarò anche se devo andare alla morte Pietro era convinto di poter perseverare bastava poco poco tempo e lui ha capito non riesce da solo perseverare mai fino alla fine quelle che perseverano sino alla fine e saranno salvati sono perseverati per opera di Dio guai a noi se pensiamo che da soli ce lo facciamo mai impossibile le promesse abbiamo in questi versetti ci ricordano che Dio ha cominciato opera in noi e Dio ci ha fatto rinascere e Dio ci tiene con la sua mano potente per arrivare fino alla fine Giovanni 6 39 40 questa è la volontà di colui che mi ha mandato che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati ma che li risusciti nell'ultimo giorno poiché questa è la volontà del padre mio che chiunque contempla il figlio e crede in lui abbia vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno di nuovo lui solo Cristo solo ci protegge e ci fa perseverare fino alla fine un paio di versetti ancora Giovanni 10 27 sempre stiamo sentendo le promesse di Dio la sua parola Dio vuole che sappiamo se siamo salvati oppure no e ci indica che è possibile sapere e dovremmo sapere dove stiamo Giovanni 10 27 29 le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono e io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano il padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del padre di nuovo Cristo solo ci protegge e ci fa perseverare ma se siamo apparteniamo a lui nessuno ci può togliere dalle sue mani primo Pietro 1 5 un'altra promessa di Dio che dalla potenza di Dio dice siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi lui solo Gesù solo ci costituisce ci guida fino alla fine poi abbiamo i versetti che non leggo ma famosi di Romani 8 39 38 39 la morte la vita angeli cose future niente ci può separare dall'amore di Dio in Cristo per noi tutto coopera al bene di quelli che amano il Signore leggiamo Romani 8 abbiamo queste certezze perché lui prima della fondazione del mondo ha predestinato il giorno della nostra salvezza ha pensato di noi ha avuto un amore di noi sapendo tutto già in anticipo e ci ha eletti ci ha salvati ci ha fatto rinascere e visto che lui ha fatto quest'opera tutto per la sua gloria noi restiamo al sicuro che niente nessuno ci può separare da lui se lui ha deciso di salvarci ci ha scelto nessuno può fermare l'opera cominciata in noi da Dio e lui ci porterà fino alla fine andiamo al secondo punto quindi abbiamo visto Dio rivela modo chiaro è possibile sapere se siamo salvati oppure no secondo qui è Dio ci comanda di fare un esame un esame l'esame è per la scuola pensiamo di solito non ci piace fare esame forse porta un po' di ansia ma l'esame più importante che potremmo mai fare è un esame della nostra vita del nostro cuore e come stiamo con Dio se qualcosa merita la nostra attenzione è questo più importante di qualsiasi altra cosa e abbiamo il privilegio che Dio ci dà ogni domenica quando ci incontriamo normalmente ci comanda il Signore ci invita alla Santa Cena il pane il vino per fare in memoria di Lui e per esaminare la nostra vita è un dono è una grazia che Dio ci dà esaminare il cuore non si prende a leggero la Santa Cena bisogna fare un esame e oggi vedremo impareremo come si fa un esame del cuore in che modo si fa ma prima di vedere come si fa velocemente due versetti qui che ci indicano l'importanza di fare un esame non è un'idea mia non è un'idea che ho avuto io è un comando comandamento da Dio secondo corinzi 13 5 leggiamo questo secondo corinzi 13 5 esaminatevi esaminatevi per vedere se siete nella fede mettetevi alla prova non riconoscete che Gesù Cristo è in voi a meno che l'esito della prova sia negativo esaminatevi per vedere se siete nella fede Dio ci comanda di fare un esame secondo Pietro 1 10 e 11 perciò fratelli impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione perché così facendo non inciamperete mai in questo modo infatti vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione punto numero uno Dio ci comanda o Dio ci rivela la sua volontà lui vuole che noi sappiamo se siamo salvati o no ha rivelato che è possibile sapere un cristiano dovrebbe sapere avrebbe certezza se è salvato oppure no l'idea di pensare è presentuoso pensare che siamo salvati chi può sapere non ha niente a che fare con cristianesimo Dio ha parlato in modo chiaro dovremmo sapere se apparteniamo a lui oppure no secondo punto abbiamo visto Dio ci comanda ci invita a fare un esame della nostra vita e ora andiamo a vedere ciò che ho scritto qua la terna triad esame per esaminarci un esame in tre parti prima parte sarebbe fiducia attuale in Gesù Cristo seconda parte testimone interno internal witness e l'ultimo vedremo è la crescita costante abbiamo ancora dieci minuti e finiamo per oggi ma questa è la parte che da considerare un'esultazione per ognuno di noi la tua fiducia attuale in Gesù Cristo vuoi fare un esame vuoi sapere se sei dentro o fuori sei unito a Cristo o no sei salvato o no prima cosa è considerare la tua fiducia attuale al momento in Gesù Cristo chi è Gesù Cristo per te è qualcuno che vuoi aggiungere al tuo programma è qualcuno buon insegnante oppure è Dio incarnato venuto per te morto per te vissuto per te ora è vivo il Salvatore è tuo Signore la salvezza prima di tutto la tua fiducia attuale in Gesù Cristo dipende se sei salvato oppure no se ti sei ravveduto e ti sei fidato a Gesù Cristo per la salvezza hai riconosciuto Dio è santo buono perfetto giudica condanna il peccato i peccatori ma ha provveduto un Salvatore per noi che siamo sporchi peccatori davanti a questo Dio sotto l'ira di Dio Padre ma Cristo è venuto per noi vissuto morto ti sei ravveduto e creduto in Gesù oppure no è un punto un passo di fede che tutti devono fare non succede automaticamente non nasciamo in questa situazione a un certo punto nella nostra vita arriviamo davanti a Cristo e bisogna decidere cosa facciamo prima di tutto bisogna conoscere il vero Gesù il Gesù della Bibbia Gesù si rivela a noi attraverso la sua parola non un'idea nostra un dipinto ma la parola scritta di Dio e la Chiesa ci rivela anche chi è Cristo la vera Chiesa ma bisogna arrivare davanti a Lui e prendere una decisione mi inginocchio a te Signore mi arrendo a te la tua volontà o no ti amo sei il tesoro della mia vita Gesù oppure no ognuno di noi bisogna fare queste decisioni se abbiamo già fatto siamo salvati da quel momento un po' e tutti i nostri peccati perdonati e per sempre uniti a Lui abbiamo vita eterna come tutte quelle belle promesse abbiamo sentito però esiste una ongoing fiducia una fiducia che continua ci siamo fidati a Lui creduto in Lui ma crediamo ancora giorno dopo giorno e questo rende difficile forse per la persona che ha confessato Gesù Cristo ma continua a vivere nel peccato oppure ha confessato Gesù Cristo ed è felice con Gesù però come Marco capitolo 4 pian piano difficoltà di vita troppo difficile forse rimanere da solo è andato via trovare un altro per soddisfare che ne so non cammina bene più con Gesù non si fida ancora a Gesù Cristo quindi fiducia attuale in Gesù ha a che fare con la salvezza che bisogna prendere il passo di fede per essere salvato e camminare ancora con il Signore avere ancora un credo in Gesù un rapporto con Gesù camminando guidato dallo Spirito Santo è una fiducia nelle promesse di Dio tutti quei versetti abbiamo letto all'inizio oggi le promesse di Dio per questo discorso di vita eterna salvezza ce l'hai ancora fiducia in quello che dice la parola scritta fiducia nella parola e le promesse di Dio questa è la prima parte dell'esame la tua fiducia attuale in Gesù Cristo com'è dove stai oggi la seconda parte di questo esame testimone interno internal witness questo è soggettivo ma è reale è una verità è reale ogni vero cristiano nato da Dio ha questo internal witness questo testimone dentro di sé è un esame l'esame personale di cui parlavamo prima è fallibile possiamo considerare la nostra vita se abbiamo fiducia in Cristo oppure no possiamo fallire nel senso non abbiamo tutta l'informazione la testa non funziona bene qualcosa ci manca qualche informazione ci manca ma testimonio testimonianza dello Spirito Santo dentro di noi non può fallire non è fallibile Romani 8 15 e 17 ci insegna cos'è questo internal witness testimone interno e vi leggo i versetti e voi non avete ricevuto uno Spirito di servitù per ricadere nella paura ma avete ricevuto lo Spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba Padre lo Spirito lo Spirito Spirito Santo attesta insieme con il nostro Spirito che siamo figli di Dio se siamo figli siamo anche eredi eredi di Dio e coeredi di Cristo se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui lo Spirito Santo stesso attesta insieme con il nostro Spirito che siamo figli di Dio soggettivo ma reale tu ce l'hai questa internal witness questo testimone interno oppure no riesci a notare quando leggi le scritture senti le parole di Dio riesci a notare quando cadi nel peccato quando vivi nel peccato sei agitato qualcosa non va perché stai rattristando lo Spirito Santo la domanda per te in questo esame è se hai questo internal witness testimone interno terza parte dell'esame per concludere oggi la crescita costante la crescita costante cosa significa sentimenti amore com'è il tuo amore per cosa il tuo amore per Dio stesso per Cristo stesso per la Chiesa il corpo di Cristo per la parola di Dio e il tuo amore amore i tuoi sentimenti per la verità per la giustizia una crescita costante significa che se siamo salvati sempre di più guardando indietro guardando adesso sempre di più i nostri sentimenti per Dio la sua Chiesa la parola la verità la giustizia queste cose qui crescono c'è una crescita un amore per Dio che continua a crescere Dio è così buono e più che conosciamo Cristo più innamorati siamo come un buon marito che ama sua moglie più la conosce più la ama stessa cosa con Dio più lo conosciamo più passa il tempo e più innamorati dovremmo essere di Dio la sua Chiesa la parola la verità e queste cose la giustizia la tua crescita costante com'è il tuo odio del peccato ha a che fare con questa terza parte dell'esame la crescita costante il più vicino camminiamo con il Signore e più passa il tempo con il Signore il più dovremmo odiare il peccato Dio odia il peccato con tutto il suo essere lui non tolera peccato lui non chiude un occhio al peccato odia con tutto il suo essere il peccato bisogna considerare la tua vita il tuo cammino i peccati quando lo fai stai tolera il peccato oppure no dovremmo crescere nel nostro odiare il nostro peccato e anche dovremmo correre via dal peccato spesso tolera il peccato perché non vediamo cosa è veramente vuoi capire quanto brutto quanto schifo è il peccato guarda Gesù Cristo strappato come una bestia inchiodato sulla croce sanguinato osse fuori e hai un'idea quanto schifo e brutto è il peccato dovremmo odiare il peccato trasformazione un'altra parte della crescita in conclusione trasformazione guardando indietro considerando la nostra crescita costante se stiamo crescendo o pure no la trasformazione è una realtà Dio non ci lascia come siamo mai ci trasforma lui è nel business di santificarci sempre di più usa cose buone cose difficili cose cattive sempre per la nostra santificazione non ci vuole lasciare come siamo ci vuole trasformare sempre di più all'immagine di Gesù Cristo la nostra mente dovrebbe essere rinnovato cambiato da prima guardando indietro vedo io ero molto carnale quando mi sono convertito a Cristo ragionando ancora in modo molto carnale ancora non sono come dovrei essere ma di sicuro Signore mi sta cambiando dovremmo avere questa testimonianza la vita scopi di vita i valori che abbiamo tutte cose che crescono più in linea con la volontà di Dio e poi in conclusione qui in santità dovremmo crescere in modo costante anche in santità primo Pietro 1 15 16 ma come lui che vi ha chiamati e santo anche voi siate santi in tutta la vostra condotta poiché sta scritto siate santi perché io Dio sono santo dovremmo avere crescita costante anche in santità in grazia secondo Pietro 3 18 una crescita in grazia lui dice così Pietro ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo a lui sia la gloria ora e in eterno Amen Amen abbiamo visto oggi Dio vuole che sappiamo se siamo salvati oppure no Dio ci comanda ci invita di fare un esame e ci rivela anche come fare un esame di tre parti per capire dove stiamo oggi se stiamo bene con Dio oppure no come andrà quando vediamo Dio fiducia attuale in Cristo ci siamo convertiti a lui abbandonato ogni altro tesoro nella nostra vita per avere lui ongoing fiducia una fiducia ancora presente oggi in lui le sue promesse testimone interno internal witness è questa crescita costante che abbiamo appena visto di nuovo la cosa più importante per sapere oggi non è se andrà tutto bene post pandemia importante sapere ci farebbe piacere sapere come andrà cominciando lunedì ma più importante ancora è sapere se andrà tutto bene quando incontriamo il nostro creatore Dio Santo Dio desidera che noi la sappiamo e ci invita adesso ad esaminare il cuore e la vita davanti a lui e daremo adesso un tempo ascoltando una canzone per fare questo esame in silenzio davanti a Dio come stiamo guardiamo a Cristo ascoltando questa canzone e ciò che lui ha fatto per noi sulla croce e poi se tu sei sicuro che hai superato l'esame andrà tutto bene gloria a Dio soltanto soli Dio gloria inalziamo lui lodiamo lui e per tutta la vita se hai failed the test non mi ricordo nemmeno come si dice in italiano failed the test fallito forse questo esame non andrà tutto bene non andrà tutto bene puoi essere sicuro puoi avere questa certezza non stai bene con Dio non andrà tutto bene per te e ora Cristo Gesù nella sua misericordia la sua bontà gentilezza pazienza ci invita ci comanda di venire a lui per la salvezza venite a me voi tutti che siete afflitti e io vi darò riposo questa è la parola di Dio preghiamo e ascoltiamo adesso questa canzone Dio ti ringraziamo che tu non sei un Dio lontano Dio ti ringraziamo che non ci hai lasciato non hai lasciato il mondo sei presente operando ogni giorno in ogni cosa in ogni circostanza tutto per la tua gloria non ci hai abbandonato anche ai nostri peccati hai provveduto un salvatore un redentore Gesù Cristo tuo figlio Signore ti ringraziamo che tu ci hai anche parlato attraverso Gesù la sua vita il suo sacrificio la risurrezione ma anche la parola tua scritta dato per noi formato per noi così che possiamo aprire leggere studiare capire vedere con i nostri occhi la verità la tua parola vivente la tua parola efficace potente tutto Signore per la nostra salvezza e prego che noi che siamo salvati oggi possiamo gioire sapendo che tu ci hai dato un modo per sapere se siamo salvati o no possiamo camminare alla luce di questa verità di essere salvati di avere un futuro con te Signore per tutta eternità cose ancora inimmaginabili cose meravigliose con te Signore e prego per chi forse può essere qui oggi ma ha fallito il test con un esame di cuore di vita vede che forse non sta bene con te a una certezza falsa di essere salvato e prego che chiunque potrebbe essere Signore che tu possa toccare il cuore adesso la tua bontà e portare la rigenerazione la nuova nascita la salvezza in modo tale che possono come altri di noi oggi amare te con tutto il cuore vedere quanto sei meraviglioso quanto sei buono tutto questo Gesù prego nel tuo santo nome Amen Grazie a tutti